domenica fa stare la mamma ma anche per i bambini di generazione verde uno dei laboratori creativi sul lungomare con l'ausilio della caritas la caritas che appunto deve lavorare per il bene delle persone in questo momento vuole unire la persona al creato a tutto ciò che noi ogni giorno incontriamo ma forse oramai per abitudine per disattenzione avvolgiamo un po lo sguardo altrove e soprattutto non ne godiamo la bellezza di quelle che sono le cose quindi in questi anni anche su una realtà che abbiamo su eboli che una abbiamo una struttura per l'accoglienza abbiamo pensato anche a una realtà di verde una specie di golf didattico di persone che si accompagnano e che si accostano alla realtà non solo del verde ma anche degli animali della natura cioè riappropriare quell'equilibrio che è molto bello che l'uomo perde proprio va in schizofrenia proprio per questo motivo perché non ha più un equilibrio con la natura siamo un po un essere animale posto fuori natura in questo momento con sia con il ritmo della vita e con tutto il resto quindi domenica attraverso i giochi attraverso il riappropriarsi di uno spazio in un momento nella vita attraverso i propri bambini che sono quelli che poi rimettono in equilibrio la realtà familiare nella composizione di una famiglia vogliamo cercare di iniziare questo lavoro con tutti quanti lo supporta generazione verde un'iniziativa insieme alla caritas tra l'altro ci sono delle curiosità e la giornata della mamma ci sarà una sorta di baby pit stop cioè un fasciatoio mobile per i neonati ci saranno anche le persone della lega per l'allattamento al seno sì sì ci sarà appunto questo piccolo spazio diciamo tutelato dove le mamme potranno sia cambiare il pannolino sia cambiare il pannolino sia appunto adattare i propri bambini in tutta serenità cosa particolare ci sarà anche un laboratorio per i bambini ma anche per gli adulti che potranno porre delle domande domande che troveranno la risposta sicuramente nelle parole insomma anche dell'enciclica di papà francesco perché questa iniziativa è stata fatta proprio per diciamo in sinergia anche con l'enciclica di papà francesco